Ciao amici di Mr.Cadget, io sono Luca, vi ho portato negli studi, cerchiamo, cerco di centrare il logo di Radio Number One perché è l'unico posto dove sono riuscito a piazzare un oggetto assolutamente incredibile. Vi faccio vedere quello che abbiamo messo nel nostro studio. Guardate un po' alle mie spalle, c'è addirittura un televisore da 65 pollici, è di Hisense, è della serie 6, è un televisore 4K smart, tra l'altro con caratteristiche molto interessanti. Scusate ma questo è veramente il massimo del masochismo, mostrarvi un televisore che al suo interno mostra ancora me, è veramente una cosa inguardabile, però ovviamente avete la possibilità di vedere come questo televisore di Hisense, che è un 65 pollici, con una definizione 4K ovviamente con funzionalità smart, riproduca un filmato in Full HD, devo dire tutto sommato con una buona qualità. A proposito di questo vi voglio segnalare un po' di dettagli. Intanto partirei dal telecomando che vi voglio far vedere con un po' di calma. Allora, un telecomando con due tasti dedicati, quello di Netflix e quello di Waki, e poi per il resto delle funzionalità abbastanza semplificate, a partire dalla modalità di gestione della tipologia di immagine che vi mostrate, la misura anche ovviamente dell'immagine che potete gestire, e poi un comando abbastanza banale, semplice come lo Sleep. Ma io voglio farvi vedere un attimo anche il dettaglio dunque di questo televisore. Vediamo anche come si comanda, essenzialmente grazie all'interazione con il telecomando. Vedete, una pressione sul tasto centrale porta nel menu principale, ci sono le app, la selezione degli ingressi, la possibilità di gestire i media, che sono eventualmente contenuti nei supporti di memoria esterni, oppure vedete in questa parte le notifiche. Nella parte superiore del televisore, vedete, viene riportato in questo caso orario, data, e anche le condizioni del tempo. Non ho ancora capito come si gestisca il fatto di mettere una determinata località in questo punto. Probabilmente lui vede l'Italia e pensa che in Italia ci siano solo le previsioni del tempo. Però vi devo dire che su questo non ho ancora approfondito. Allora, guardiamo quali sono le applicazioni principali che troviamo nel televisore. Vedete, Netflix, Infinity, Repubblica, Cili, Waki TV, il metro, quattroruotetv, cm.com, e poi l'accesso ad AccuWeather. Ah! Questa radio non si può vedere. No, scherzo. C'è l'applicazione poi di RTL e ancora scendendo, vedete invece la possibilità di andare ai film, alla musica, ai contenuti sportivi ed eventualmente ad effettuare una ricerca. Ecco, se volete installare altro, basta accedere all'App Store, la parte di ricerca dell'App Store, vedete, è nella parte qui superiore, e poi sono divisi essenzialmente i contenuti per film, per sport, per musica, news, giochi. Questo dunque è ciò che trovate. E bambini, ecco, vedete il tema. L'installazione è facilissima perché una volta che avete trovato un contenuto che per voi è interessante, lo vedete essenzialmente quando vi piazzate sopra uno dei contenuti, vedete che in questo punto arriva l'indicazione che per installare basta premere il tasto verde. Ma a proposito invece di contenuti per, diciamo, scusate, di settaggi per quanto riguarda i collegamenti, vorrei farvi vedere un po' anche quello che succede dietro il televisore. Scusate se magari non c'è grande luminosità, vedete, attacco di rete, attacco con la presa ottica, due prese HDMI, uscita audio e ingresso AV, e poi l'accesso invece composito, quindi il cosiddetto ingresso composito che è un po' desueto, però in questo caso c'è. Vi mostro anche altre due porte HDMI, quindi per un totale di quattro, una porta USB con l'uscita da 1A e altre due porte invece con l'uscita a 0.5, e poi c'è l'attacco invece per la terra satellitare e per il digitale terrestre. Vi mostro un altro dettaglio importante, quello dei supporti, vedete che sono piuttosto generosi in profondità, però devo dire che il montaggio di questi supporti è veramente facilissimo, cioè è proprio molto 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 elementare e questo si apprezza rispetto ad altri televisori invece che hanno magari meccanismi di montaggio molto più complessi. Vedete, questo è tutto sommato uno stand molto semplice, anche se volete un aspetto del televisore molto semplice. C'è l'HDR Plus in questa TV, mi avvicino un attimo per prendere il telecomando, vi rimostro dunque la pressione del tasto Home per tornare alla parte principale, richiamo le app perché vorrei tornare per un attimo su YouTube, e vorrei tornare su YouTube non per mostrarvi ancora un mio video con una mia recensione, perché ho pietà di voi e capisco insomma che ci sia un limite anche alla visione di cose brutte, in realtà vorrei farvi vedere dei contenuti 4K. Vedete il risultato in caricamento, allora vediamo qualcosa di divertente con l'Ultra HD, ad esempio ecco nel cosiddetto Relaxation Channel, secondo me possiamo vedere, ecco magari non la pubblicità che possiamo saltare solo tra 4 secondi, quindi guardiamoci anche la pubblicità, visto che ci siamo, e vediamo se riusciamo a saltare il contenuto. Eccolo dunque, vedete, allora ci sono diverse modalità di utilizzo, in questo momento io sono con l'utilizzo standard della televisione, ma vi mostro anche quale altra possibilità c'è, vedete direttamente da questo tasto dal Picture Mode, avete la possibilità di utilizzare la modalità dinamica, il cinema notturno, il cinema diurno, oppure la modalità standard, solo premendo viene modificato il tipo di utilizzo che voi fate della televisione, e vedete che essenzialmente cambia tantissimo l'impatto delle immagini, quella dinamica ovviamente è la più bella, anche se forse i colori sono un po' saturi. Il menu di questo televisore, devo dire che è molto semplice, io non ho in questo momento collegato il digitale terrestre neanche a un attacco satellitare, perché non sono riuscito a farlo in questa posizione, ho provato un po' la lettura dei contenuti media, e vedete qui potete selezionare essenzialmente i vostri ingressi, avete anche la possibilità di usare l'AnyViewCast, che essenzialmente è la versione Mirror Link che trovate sui televisori. Ecco, connettività di questo televisore, lo andiamo a vedere immediatamente, la connettività di rete si seleziona in questo punto, io in questo momento sono con la rete connessa, volendo potreste attellare invece con la scelta del Wi-Fi. Sempre per quanto riguarda il menu, gestione del suono abbastanza completa, con diverse modalità di emissione sonora, devo dire che il risultato del suono è discreto, anche se non ci sono casse frontali. Sapete che l'audio non è mai il massimo per quanto riguarda i televisori di questa generazione, con questo tipo di impatto, con delle cornici molto molto piccole. Comunque, insomma, essenzialmente potete gestire le immagini a vostro piacimento. Io, come vi dicevo, ho gestito quasi sempre la visualizzazione dei contenuti con la modalità dinamica, che mi sembrava la migliore in assoluto. Qui potete, essenzialmente vedete, gestire alcune delle funzionalità del televisore. Potete fare anche una cosa carina, scegliere i nomi degli ingressi, che secondo me è una delle cose più comode in alcuni casi magari per poter indicare il nome della... Allora, ve lo faccio rivedere questo... Per poter magari indicare il nome dell'ingresso che tutto sommato può essere comodo, no? Vedete, lo potete scrivere proprio direttamente voi con la tastiera a schermo oppure ovviamente potete collegare anche una tastiera esterna. Insomma, vi devo dire, un prodotto che viene venduto a 1.569 euro e che a questo costo, secondo me, rappresenta una soluzione molto, molto, molto interessante per quanto riguarda un televisore 4K in modalità smart, vi ho detto HDR+, tra le indicazioni. Qualcuno di voi mi chiedeva qual è il tempo di refresh dell'immagine? Purtroppo questa è un'informazione che non sono riuscito a trovare. Però in modalità dinamica devo dire che le immagini riescono a gestire bene, il televisore riesce a gestire bene anche delle immagini con forte movimento, ad esempio come quella di una partita di calcio. Insomma, 1.599 euro alla vendita per la versione 65 pollici è veramente un affare, secondo me, notevole. la serie 6, versione 4K, 65 pollici, Ultra HD Smart di Hisense, sponsor ufficiale dei mondiali del 2018.